Dopo un'uccisione con la lama, puoi tirare uno shuriken a un nemico vicino. Suggerimento, disattivare gli allarmi per evitare i rinforzi nemici. Quando l'indicatore si riempie, il nemico ti vede. Sconfiggere tutti i nemici. Stavo tenendo d'occhio. Stavo tenendo d'acforzando l'indicatore. Sudo-risci. Stavo tenendo d'acforzando Gio. Stavo tenendo daguerre gli uomini. lo voglio un biscottino lo voglio un po' di nuovo sono finiti l'enocchio Il papino stai buttando. Sì, va bene. Chi è? Una parola. Sifilitico. Allora, mi... Obiettivo completato. Briar, patch. Perché non ci avete detto che è l'Omega 4? Questa era l'Omega 4. Ora Sloan ha disertato e dobbiamo scoprire perché. Infiltratevi nel bunker e scaricate i dati dal mail.